Il Tempio della Cristianità racchiude in sé i più straordinari capolavori artistici che il genere umano conosca. Michelangelo, Bernini, Canova e molti altri maestri dell'arte figurativa e pittorica, dell'architettura e dell'ingegneria hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera unica al mondo. Il nuovo impianto di illuminazione della patria di Tampiedo ricalca dal punto di vista tecnico e anche illuminotecnico l'impianto preesistente e la differenza sostanziale è il passaggio dell'utilizzo a LED piuttosto che le lampade incandescenza come precedentemente erano. Oggi, grazie al nuovo impianto di illuminazione, queste opere riappaiono finalmente agli occhi di tutti inondati da una nuova luce. Il progetto della Basilica è stato particolarmente impegnativo sotto il profilo artistico poiché le dimensioni rappresentano l'elemento di sfida più importante. Siamo orgogliosi di aver contribuito col nostro lavoro a far sì che questo rinnovato impianto di illuminazione sia ora controllato con un sistema sviluppato e programmato in collaborazione con i servizi tecnici della Santa Sede. Facendo tesoro di quanto già realizzato precedentemente per altri impianti come quelli di Piazza San Pietro, della Salareggia per le statue e anche della Piazza San Pietro, con Dario Fiocchietti con il quale appunto il nostro rapporto di collaborazione dura da tantissimo tempo e si è pensato a come sviluppare poi in maniera pratica tutto questo sistema di controllo. Arte, luce e tecnologia si fondono tra loro per dare vita ad uno scenario mozzafiato. La difficoltà in questa progettazione, in questa realizzazione è stata consentire poi a chi utilizza il software di avere un'interfaccia grafica semplice, intuitiva, che allo stesso tempo poteva dare il massimo della flessibilità alla gestione dell'impianto. Future Domotic Service è ancora una volta presente in uno dei progetti più innovativi e affascinanti che il Vaticano potesse presentare al mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!